La CNA Veneto ha presentato gli aggiornamenti relativi al terzo focus 2021 sull'impatto del Covid-19 sull'economia del territorio confrontandoli con quelli delle principali regioni europee. Un report diviso in due parti, la prima dedicata al monitoraggio dell'impatto del Covid sugli scenari economici rispetto a 10 indicatori, tra i quali PIL, consumi, investimenti, export mediante analisi trimestrale, nonché una comparazione con il PIL delle principali regioni europee con le quali è necessario confrontarsi. La seconda parte ha analizzato le previsioni di ripresa attraverso due approfondimenti. Individuare insieme quali sono gli obiettivi e le strategie e investire proprio su questo, perché o riusciamo a mettere insieme tutte le forze su un unico indirizzo, se no non riusciamo per la piccola impresa ad ottenere quel risultato necessario per riprendere un po' il mercato. L'importanza è riuscire anche a trasformare questa piccola impresa in filoni che riescono poi a affrontare anche i mercati esteri. Un percorso già intrapreso da molti comparti della piccola media impresa per quanto riguarda la transizione ecologica e tutto il settore turismo con le filiere collegate che deve essere ripensato in maniera strategica per poter rilanciare le imprese e tutto il settore dell'economia sia territoriale che a livello nazionale e internazionale. Il monitoraggio dell'impatto della pandemia sull'economia del Veneto, si vede che appunto c'è un dato che riguarda il PIL meno 8,9% nel 2020, segnali incoraggianti ci sono per quanto riguarda il 2021 con un più 5%. Le prospettive sono un po' più incoraggianti per quanto riguarda gli investimenti, meno per i consumi che sono ancora in difficoltà. In difficoltà sono anche le imprese artigiane che hanno subito l'impatto più marcato della pandemia rispetto al resto delle imprese. Ci sono segnali incoraggianti per quanto riguarda invece l'export che negli ultimi sei mesi del 2020 ha rialzato la testa. Tra le varie attività di ripresa il Veneto dovrà confrontarsi con l'Europa e puntare tutta l'attenzione ai due asset che potranno rappresentare i cardini della ripresa economica del territorio, transazione ecologica ed energetica e turismo, puntando sulle filiere strategiche aiutandole nella riconversione tenendo conto che il tessuto della piccola impresa è centrale e nevragico per la ripartenza della regione ma anche del paese, mentre il settore del turismo deve essere completamente ripensato dopo le gravissime conseguenze dovute all'emergenza sanitaria. La transizione ecologica è legata alle opportunità offerte anche dal nuovo piano di ripresa e resilienza nazionale che deve essere neclinato all'interno dei nostri territori per i prossimi anni, però ci sono delle imprese in prima fascia e sono quelle legate soprattutto al mondo delle costruzioni, al mondo degli impianti, al mondo dell'informatica, dell'IST che già oggi stanno operando in questa evoluzione, in questa transizione e poi ci sono delle imprese di seconda fascia legate al mondo della manifattura, del legno arredo, dell'alimentare e anche del comparto della moda. Per quanto riguarda il turismo invece le previsioni per quanto riguarda la stagione estiva danno un turismo in evoluzione, ci sono dei segnati comunque positivi, sarà un turismo più divicinato, più legato al territorio e dove sarà sicuramente importante lavorare sull'accoglienza e sulla permanenza all'interno dei vari contesti territoriali.